ciao a tutti e tutte ragazze e ragazzi con questo video ho un occhio già truccato con il make up correttivo di prima in questo occhio voglio invece fare un trucco ispirato agli anni 70 che ho visto in una foto di mia madre quando mia madre aveva circa 25 anni sapete che negli anni 70 usavano i colorini pastello un po sgargianti soprattutto il verde acqua l'azzurro questi colori di trucco storico non so molto però quello che vorrei fare è proprio cercare di riprodurre un trucco di quel tipo in quel trucco mia madre aveva anche l'eyeliner nero io userò il mio eyeliner marrone che è l'unico che possiedo cominciamo allora la base l'ho già fatta con correttore e cipria in polvere libera di kiko e quindi passiamo subito diciamo al colore il colore si concentrerà soprattutto nella parte diciamo della parte della mobile si colorava molto la parte della mobile anche un po allungandola la parte sotto mentre la parte sopra rimaneva abbastanza scoperta diciamo quindi io comunque vi faccio sempre un pochino di transizione quindi prendo un colore la transizione e come sempre guardo in basso perché non vedo la mia piega e faccio la mia transizione neutra stavolta cercando di portarla anche all'esterno in modo da vedete lasciare la parte da mobile libera però portare la transizione all'esterno in modo da sollevare l'occhio anche visivamente e anche qui verso l'alto verso l'esterno poi prendo un bel colore sgargiante non direi a questo punto di fare una base colore con un verde diciamo acido matt faccio la mia base colore è quasi una specie di cat eye nel senso che poi c'era una bella riga di matita sopra sotto contornava tutto l'occhio anche la parte davanti quindi non so come verrà vedremo un po che effetto farà e poi ovviamente un po anche sotto non si vede molto ma questa è per il momento una base ovviamente anche con l'ombretto nella parte tra inferiore arrivo fino al dotto lacrimale qui ok quello che faccio adesso è prendere un colore verde super sgargiante come una palettina di pacco arabani di molto sgargianti sopra l'occhio guardate comincia ad avere un po un mood anni 70 come colore perché negli anni 60 andavano molti trucchi grafici quindi l'eyeliner grafico almeno quanto vedo dalle foto dai video eccetera mentre negli anni 70 andavano questi colorini o pastello o proprio molto 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 sgargianti un po anche col dito così si vede di più bello stessa cosa faccio sotto quindi prendo il pennellino da precisione questo qui e stessa cosa faccio sotto e prendo quello ancora più chiaro e faccio il mio angolo interno prendo quello più chiaro faccio il mio angolo interno e sempre col dito ne metto un po guardate direi che col colore ci siamo bene adesso andiamo con questa rigona che contorno a tutto l'occhio aiuto quindi parto dalla palpebra inferiore la waterline diciamo inferiore poi devo fare un po questa collina certo che l'occhio è molto intensificato vado anche dentro tanto non ho paura di stampare niente avendola anche sotto una notita ecco ragazzi questo è il trucco ispirato agli anni 70 qui sotto si poteva si può fare anche una sfumatura un po più dove il verde è un po più presente aspettate aggiungo un pochino però poi con la matita il mascara chiaramente si è un po' perso l'effetto del verde ecco qui cosa ve ne pare io penso di averlo riprodotto fedelmente bene con questo look vintage anche questo video finisce qui un bacione a tutte a prestissimo ciao